Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Allora, è quello che invocano lo stormino dei due milioni di palestinesi a Gaza, perché il risultato di polverare Gaza o radere al suolo Gaza di fatto porterà all'uccisione di milioni di persone. Vorrei ricordarvi che Putin ha applicato questa politica a Grozny, in Chechnia, che Assad, il dittatore siriano, ha applicato quella formula in Siria, ad Aleppo, ha distrutto, ha raso al suolo, sono stati rasi al suolo. Se i nostri standard sono quello che ha fatto Assad, il mostro siriano, o quello che fa Putin, allora il diritto internazionale è una farsa. E allora, agli occhi della Cina e della Russia che ci stanno osservando, non c'è legalità internazionale. Io spero che Putin sarà portato davanti alla Corte internazionale dell'AIA, come lo spero, che tanti criminali possono essere portati, ma dobbiamo rimanere ancorati nel diritto internazionale, perché non dobbiamo lasciare dittare l'agenda politica dai peggiori, ai istrimisti, perché allora perdiamo la nostra umanità. Allora vuol dire che descendiamo nelle barbarie, tutti. in tanto tempo,